Ed ecco a voi quattro studenti sfigati che non hanno nulla da fare insieme tranne i lobby di invocare i morti in case abbandonate è una chiesa alle 5 abbiamo l'appuntamento con il custode della casa che ci consegnerà le chiave le streghe, informazioni sulle streghe questa dovrebbe essere la stanza del bambino furono rinvenuti dalla polizia locale i resti, i 78 bambini cercheremo questa notte verso le 3 di invocare il bambino urlante forse troveremo la verità forse no ma ci proveremo Stefano 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 Grazie a tutti.